Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è stato assolto dal Tribunale di Torino dall'accusa di finanziamento illecito. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Condannato invece a quattro mesi il suo ex capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, attualmente parlamentare del PD, ma solo per uno dei due episodi contestati. La stessa pena è stata in fritta all'imprenditore Vito Ladisa, assolto invece Giacomo Mescia. La vicenda è legata alla campagna per le primarie del PD nel 2017. Il PM aveva chiesto la condanna un anno di reclusione e 90.000 euro per Emiliano e Stefanazzi, otto mesi di reclusione invece per Ladisa e Mescia. Nelle precedenti udienze il governatore pugliese si era detto fiducioso nella giustizia. Spero si interrompa il circuito della macchina del fango, ha dichiarato illegale del presidente della regione Puglia Gaetano Sassanelli dopo la lettura della sentenza. Il presidente Emiliano per lunghi cinque anni, senza lamentarsi, ha sopportato di tutto e di più per una vicenda per la quale adesso, anche processualmente, ha chiarito di non avere alcun tipo di responsabilità. Otto arresti sono stati eseguiti alle prime ore di questa mattina dai carabinieri di Massafra, coadiuvati dalle unità antidroga del nucleo cinofili di Modugno. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di otto persone, di cui quattro finite in carcere e quattro agli arresti domiciliari, a cui si aggiungono ulteriori sei persone indagate in stato di libertà, tutte presunte responsabili a vario titolo di acquisto, detenzione e vendita di droga. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai carabinieri di Massafra ha permesso di individuare una rete di spaccio di cocaina, rivolta a una vasta platea di acquirenti nei comuni di Massafra e Crispiano. I soggetti indagati avrebbero procurato la droga attraverso canali tarantini, localizzati nel notorione Tamburi. Nel corso delle attività investigative è stato riscontrato anche un singolare patto criminale tra un fornitore e un indagato massafrese di 33 anni, che come scrive il GIP nell'ordinanza, preoccupato dallo scontro tra famiglie tarantine per la supremazia territoriale e timoroso di essere coinvolto in un filone di indagini ha patuito con il suo fornitore la continuazione dell'attività illecita con il suo sostituto attraverso una sorta di passaggio di consegne. Le indagini hanno inoltre permesso di arrestare in flagranza di reato due persone e segnalarne alla Prefettura altre 10 per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrati complessivamente 320 grammi di cocaina. È stato inoltre documentato un consolidato modus operandi adoperato da alcuni indagati, ovvero quello di cedere la droga dal balcone delle rispettive abitazioni, in alcuni casi anche con l'uso di un cestino che soprattutto nelle ore notturne veniva calato per vendere le dosi di droga ai vari acquirenti. Gli altri indagati, che hanno svolto un ruolo marginale rispetto alla posizione dei soggetti maggiormente implicati, hanno comunque preso parte a molteplici episodi di rilievo penale. Sono state inoltre perquisite nell'ambito della stessa operazione diverse abitazioni. L'eventuale responsabilità degli indagati dovrà ora essere accertata con sentenza definitiva. Arrestati a Martina Franca dalla Polizia di Stato, due ragazzi di origini marocchine ritenuti responsabili dei reati di resistenza pubblico ufficiale e presunte lesioni. I poliziotti del commissariato di Martina Franca sono intervenuti a seguito della segnalazione giunta presso la sala operativa 113 di una lite animata avvenuta tra ragazzi all'interno di un bed and breakfast del posto. Gli agenti della squadra volante, una volta giunti presso il bed and breakfast, hanno constatato la presenza di quattro ragazzi originari del Nord Africa all'interno di una stanza. In evidente stato di alterazione, i giovani litigavano tra di loro e uno dei ragazzi presentava anche un vistoso taglio sull'avambraccio sinistro. Sangue sul pavimento della camera, del bagno e del corridoio, oltre a cocci di vetro e ad arredi distrutti. Due dei quattro giovani, dopo essersi rifiutati di declinare le proprie generalità, hanno anche aggredito i poliziotti, che con non poche difficoltà sono riusciti a metterli in sicurezza e ad arrestarli. La riforma dell'autonomia differenziata giunge in Parlamento e il provvedimento è stato infatti incardinato nella Commissione Affari Costituzionali del Senato. Si tratta del primo passo per il disegno di legge voluto dal ministro Roberto Calderoli. La partita è iniziata, ma gli schemi di gioco sono chiarissimi, ha commentato il ministro della Lega. Adesso si procede con le audizioni, che come preventivato saranno una cinquantina. Via il DDL spacca Italia le dichiarazioni del deputato pugliese Obaldo Pagano, una legge che divide il paese in due, allarga i divari e abbandona completamente il mezzogiorno. Se non mi stupisce l'atteggiamento dei parlamentari leghisti, sono sinceramente affranto dall'atteggiamento totalmente disinteressato di tanti colleghi meridionali della maggioranza stanno svendendo la nostra terra pur di tenere in piedi un accordo di governo. Entra in vigore a partire da domani 5 maggio la legge approvata lo scorso 28 marzo dal Consiglio regionale della Puglia che vieta la pesca dei ricci nei mari della nostra regione per i prossimi tre anni. Un provvedimento necessario a ripopolare i fondali a rischio desertificazione a causa del prelievo massiccio effettuato negli ultimi anni. Non basta infatti il periodo di fermo biologico nei mesi di maggio e di giugno, servirà uno stop di tre anni per lasciare ai ricci il tempo e il modo di riprodursi. D'alimento per pochi, ha spiegato il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo della Puglia Domani e primo firmatario della norma, il riccio di mare è diventato una moda gastronomica sempre più diffusa, alimentando un mercato ormai fuori controllo. La legge non vieta di commercializzare ricci di provenienza extraregionale, ma solo la pesca. Si chiude così il cerchio di un iter complesso, partito dalla mia proposta di legge condivisa con pescatori, ricercatori e ambientalisti e ben accolta da tutti coloro che amano il mare e la natura, nonché sottoscritta dal presidente Emiliano e da 49 consiglieri regionali. È stata presentata questa mattina presso il Castello Aragonese l'edizione 2023 del Palio di Taranto, la storica regata che si svolge l'8 maggio durante il primo giorno di festeggiamenti in onore del patrono San Cataldo e in occasione della festa del mare il 22 e 23 luglio. Il Palio dei Rioni di Taranto è una regata in costume, disputata da dieci barchi a remi che rappresentano i quartieri della città. Le imbarcazioni, spinte da due vogatori che remano in piedi, devono percorrere l'intero perimetro del borgo antico in meno di mezz'ora. Sì, il Palio ormai è un evento identitario della città di Taranto ed è per questo che l'amministrazione comunale è felice di essere a fianco del suo presidente Simonetti e come diceva prima il presidente è un evento che non si è mai fermato nonostante le difficoltà che ci sono state in tutti questi anni dal 1986. Il Palio ci è sempre stato e ha voluto sempre migliorarsi. Allora intanto il Palio ritorna come sempre dal 1986 ad oggi, il Palio non si è mai fermato neanche in tempi di pandemia. Siamo riusciti a fare l'evento perché è un evento particolarissimo che si svolge come ormai tutti sanno intorno al pericolo della città vecchia, ovviamente in mare. Dieci imbarcazioni costruite nel lontano 1992 da un maestro d'Ascia che ahimè purtroppo adesso non c'è più, però sono dieci imbarcazioni tutte uguali che gareggiano per le vecchie circoscrizioni della città. Una volta la città era distribuita in dieci circoscrizioni e poi adesso comunque c'è solo ed esclusivamente il Comune di Taranto che racchiude tutti questi quartieri. Arriva anche in Puglia il bonus psicologo. Come previsto dalla normativa nazionale, infatti la Regione ha autorizzato l'Inps a corrispondere gli importi del contributo statale che mira a sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Le condizioni per richiedere il bonus, come riportato dallo stesso sito dell'Inps, sono la residenza in Italia e un ISEO indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità al momento della richiesta della domanda non superiore a 50.000 euro. Presentati questa mattina presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città i dettagli del percorso formativo finalizzato al conseguimento del patentino di buon proprietario detentore di cani, un'iniziativa gratuita organizzata dal Comune di Taranto e dall'Asda del Capoluogo Ionico. Il corso aperto a tutta la cittadinanza e anche a chi voglia adottare un animale si terrà il 12, 13 e 14 maggio prossimi nella sala conferenze dell'ex ospedale Testa. Si tratta di una delle misure che l'amministrazione Melucci aveva già previsto dopo gli episodi di mordacità in danno di cani padronali nel rispetto di quanto disposto dal Governo in materia di incolumità pubblica. Estremamente importante, questa è una iniziativa lodevole che l'amministrazione comunale ha preso perché è rivolta ai suoi cittadini che possono migliorare il rapporto con il cane attraverso lo studio del comportamento di questa specie che, benché familiare perché convive con l'uomo da 20.000 anni di evoluzione, non è sempre compresa perfettamente e questo è la base di certi episodi spiacevoli che talvolta coinvolgono il cane e l'uomo che viene aggredito in modo apparentemente inspiegabile. Allora, il corso che oggi si apre con questa conferenza stampa promuove una campagna di prevenzione proprio in seguito a tutti gli episodi che ci sono stati nel nostro territorio, in seguito alle aggressioni da parte dei cani padronali, è nata l'idea, sempre in ossequio, questo ci tengo a dirlo, all'ordinanza ministeriale del 2009 e soprattutto a quella attuale dell'8 agosto 2022, è nata l'idea di fare questo corso ovviamente con la stretta collaborazione dell'As veterinaria di Taranto perché sicuramente il dottor Colaceco non ci dice mai di no a qualsiasi iniziativa, quindi c'è questa stretta collaborazione che io ritengo fondamentale sul territorio proprio in ausilio con la ASL e soprattutto con l'Università di Bari, con l'Università di Bari la facoltà di veterinaria, quindi è nata questa idea per promuovere non solo una campagna di prevenzione ma anche quelli che sono i comportamenti basilari che i detentori proprietari di cani devono avere nell'ambito del sociale. È un'iniziativa questa e quindi un percorso formativo che ha a che fare con l'amore che dovremmo avere nei confronti degli animali, io sono proprietario, vivo in campagna, ho una colonia feline, sono proprietario di cinque cani e da sempre ho avuto i cani e quindi il il cane è l'amico dell'uomo e il cane è l'amico dell'uomo però non è un essere vivente da ingabbiare, da chiudere e da mettere in bella vista per la passeggiata perché magari è un cane di razza o è un cane che è di quelli di moda. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.